Se ne andavano in giro tra la costiera amalfitana e quella sorrentina spendendo soldi nei negozi utilizzando però banconote false del taglio di 20 euro. Sono stati i carabinieri di Positano e della compagnia di Amalfi guidata da Umberto D'Angelo Antonio a fermare ed arrestare due cittadini residenti a Torre Annunziata, Emanuele Rapacciuolo e Stefano Ingenito proprio mentre erano intenti a fare shopping nei negozi di Positano con le banconote false. Tre gli esercizi commerciali colpiti a Positano ma i carabinieri avevano avuto una segnalazione anche dalla centrale di Sorrento. I militari attraverso una perquisizione a bordo dell'auto utilizzata dai due hanno anche ritrovato altre 12 banconote false sempre del taglio di 20 euro probabilmente provenienti dalla stessa centrale di Falso. A bordo dell'auto è coinvolto nello shopping anche un minore per il quale procede la procura minorile. L'accusa è spendita, introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate in concorso.